Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta rustica mascarpone e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta sfoglia, mascarpone, uova, zucchine tagliate a cubetti e cotte, sale, pepe, pancetta a cubetti, parmigiano grattugiato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il mascarpone, le uova, il parmigiano, il pepe e il sale. Ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 3. Aggiungere le zucchine. E la pancetta. Ed amalgamare con la spatola. Versare il composto sulla pasta sfoglia che abbiamo precedentemente bucherellato con una forchetta. e livellare bene. Spolverizzare la superficie con il parmigiano grattugiato. Chiudere i bordi. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La torta rustica è cotta, lasciare intiepidire prima di rimuovere dallo stampo e servire. Torta rustica, mascarpone e zucchine. Grazie e alla prossima ricetta. Spolverizzare la superficie con 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 la superficie. Grazie a tutti.